E benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Frivram, oggi siamo qui in un nuovo video in cui di tutto ho fatto una mini parodia sull'S7, la parodia della pubblicità S7 è il telefono che non ha paura, ho fatto la parodia, spero è riuscita abbastanza bene, spero vi piaccia, iscrivetevi al canale, lasciate un like ma che non siete iscritti per il 200, grazie tante, Siamo a quasi 30.000 visualizzazioni, spero vi piace e vai con la intro Mi dai il tuo? Dai ti chiamo io, ciao! Samsung Galaxy S7 Edge e S7 Samsung Galaxy S7 Edge